In questa lezione parleremo del campo elettrico generato da più cariche elettriche puntiformi. Vedremo come si applica il principio di sovrapposizione per determinare il campo elettrico. Allora, in questo caso abbiamo due cariche elettriche, la carica Q1 di segno positiva e un'altra carica di segno Q2 di segno negativo. Bene, vogliamo calcolare il campo elettrico nel punto P generato dalla carica Q1 positiva e dalla carica Q2. Come si ragiona? Si ragiona utilizzando il principio di sovrapposizione degli effetti che dice che il campo elettrico totale è dato dal risultante dei campi elettrici generati dalle singole cariche. In pratica come ragioniamo? Immaginiamo per un attimo di avere solo la carica Q1 e di vedere qual è il campo elettrico generato dalla carica Q1 nel punto P. Bene, in base a ciò che abbiamo imparato sul campo elettrico generato da una carica puntiforme avremo che il vettore campo elettrico sarà dato da questo vettore E1 quindi lungo la direzione che congiunge la retta che unisce la carica con il punto P il verso è uscente come vedete perché la carica è di segno positivo quindi per definizione abbiamo detto che le cariche positive generano un campo elettrico con il verso uscente dalla carica adesso cerchiamo di vedere il campo elettrico generato dalla carica Q2 ipotizzando che la carica Q1 non ci sia allora per fare questo eccolo qua vediamo qui il campo elettrico chiaramente è diretto sembra una retta congiungente la carica e il punto P chiaramente in questo caso col verso entrante perché la carica è negativa immaginiamo che il modulo del campo elettrico quindi il vettore sia più lungo semplicemente perché magari la carica è un po' più vicina al punto P e quindi voi sapete che il campo elettrico è inversamente proporzionale alla distanza al quadrato o perché anche perché la carica Q2 è maggiore in intensità della carica Q1 alla fine i due campi elettrici che abbiamo così ottenuto sono E1 che è questo come vedete lo riportiamo qui nel disegno e E2 che è questo qui allora il campo elettrico totale chiaramente seguendo la regola del parallelogramma dei vettori allora io andrò a disegnare il parallelogramma quindi la risultante di questi due vettori è il vettore E che è il campo elettrico totale generato dalla carica Q1 e dalla carica Q2 bene detto questo parliamo di linee di forza del campo elettrico linee di forza del campo il campo elettrico può essere rappresentato mediante linee di forza costruite in modo che in ogni punto delle linee del campo ha una direzione tangente alle linee stesse allora vediamo cosa significa questa frase bene andiamo a vedere alcuni casi semplici partiamo dalla carica puntiforme ok? la carica puntiforme disegno positivo allora come abbiamo visto in qualsiasi punto dello spazio che io vado a prendere il campo elettrico ha per direzione la retta che passa per un qualsiasi punto dello spazio e la carica stessa quindi in qualsiasi punto possiamo immaginare che esca una retta passando per gli infiniti punti dello spazio e che queste rette non siano altro che le linee di forza in realtà si tratta non di rette ma di semi rette perché sono delle rette che hanno un punto d'origine in questo caso il punto in cui è posizionata la carica come vedete in questo caso il fatto che la direzione del campo sia tangente alle linee stesse ma siccome qui le linee non sono altro che delle rette è chiaro che coincide la retta tangente coincide con la linea stessa quindi queste per noi sono anche le linee di forza come vedete il verso uscente per definizione poi abbiamo il campo elettrico generato dalla carica negativa come vedete è uguale al campo elettrico generato da una singola carica positiva però col verso entrante anche in questo caso le linee di forza sono queste semi rette che escono a raggio partendo dal punto in cui è posizionata la carica nello spazio quindi queste sono le linee di forza bene andiamo a vedere adesso il caso in cui il campo elettrico sia generato da due cariche di segno opposto come queste ok? allora è chiaro che cosa vuol dire che la direzione del campo risulta essere tangente alle linee stesse allora queste che vedete disegnate sono le linee di forza vedete che in questo caso le linee di forza si uniscono partono, si arrotondano qui partono dalla carica positiva e si dirigono verso la carica negativa visto che il verso è uscente dal più e entrante al meno come vedete qui tendono ad arrotondarsi perché tendono a chiudersi riunendosi con le due cariche con la stessa carica vedete mentre dalla parte esterna le linee di forza sono quelle semirette che avevamo visto nei casi precedenti come qui quindi esternamente le linee sono delle semirette uscente allora che cosa vuol dire? vuol dire che se io prendo un punto qui e voglio sapere qual è la direzione del campo quindi qual è la retta direttrice del campo elettrico cosa devo fare? devo disegnare una retta tangente ok? in questo punto e questa retta tangente altro non è che la direzione del campo per sapere qual è il verso è semplice che siccome va dal più al meno quindi il verso sarà così quindi in questo punto qui il campo elettrico sarà questo questo sarebbe anche facile capirlo semplicemente con la regola del parallelogramma perché se io voglio come abbiamo fatto prima nel caso delle due cariche puntiforme quindi il campo elettrico generato da questa sola carica positiva in questo punto sarà questo mentre il campo elettrico generato da questo sarà questo qua se adesso io faccio la regola del parallelogramma chiaramente regola del parallelogramma ottengo come risultato questo vettore qui applicando quello che è il principio di sovrapposizione così come abbiamo fatto in questo caso qui se ho due cariche dello stesso segno immaginiamo di avere due cariche positive chiaramente cosa succede? qui le cariche si respingono e pertanto le linee di forza saranno di questo tipo qua la stessa cosa avrò da questa parte qui queste invece sono le linee vedete le linee di forza del campo elettrico generato da due cariche dello stesso segno adesso ho scelto due cariche positive ma avrei potuto scegliere anche due cariche negative il risultato che ottengo è lo stesso quindi in ogni punto qui ad esempio la direzione del campo risulta essere tangente sempre facciamo Grazie a tutti.